La Federazione Ipotecaria Europea dei Mutui, rappresentata dal dottor Bertalot, ha avviato un nuovo progetto che proprio questa settimana viene presentato a Venezia, in Italia. Ci racconta di cosa si tratta e a chi riguarda. L'evento di Venezia vuole essere la risposta di tutto il settore ipotecario alla domanda di Draghi di migliorare l'efficientamento del parco immobiliare europeo. Quindi su diversi paesi noi stiamo coordinando l'attività di più di 2000 banche per concentrarci su due obiettivi molto chiari e molto tangibili per i consumatori. Quelli di aiutarli a fare un investimento per ristrutturare la propria casa e quindi trovare uno strumento finanziario che possa accompagnare le famiglie a massimizzare il valore del proprio immobile e ridurre i costi di mantenimento della propria casa. E in secondo luogo cercare di aiutare le banche a attivare un processo di decarbonizzazione di tutta l'economia dal punto di vista sia degli immobili in bilancio delle banche, ma poi andare a fornire una serie di strumenti che possa sostenere le piccole e medie imprese nel implementare la legislazione europea della tassonomia e delle case verde che diventerà legge tra qualche anno.